Siete una pistola? Pensavo di svaliggiare la casa. Peter Lake è un abilissimo ladro che incontra per caso la bellissima Beverly e si innamora perdutamente di lei. Il loro amore è però sfortunato, lei è malata e Peter cercherà in tutti i modi di salvarla. Storia d'inverno è il racconto di un sentimento che travalica il tempo e lo spazio e che è in grado di fare miracoli. Qual è la cosa più bella che avete rubato? Cominciò a credere di non averla ancora rubata. Di storie d'amore struggenti è pieno il cinema. In Love Story Ryan O'Neill e Ellie McGraw sono giovani, affascinanti e innamorati. Peccato che lei sia mali di cancro e la loro relazione finisca tragicamente. Che cosa si può dire di una ragazza morta a 25 anni? In Ghost, Patrick Swayze viene ucciso da un amico ma rimane sulla terra sotto forma di fantasma per proteggere l'amata Demi Moore. Mentre Leonardo Di Caprio, pittore povero ma bello, si innamora dell'aristocratica Kate Winslet e la salva dal naufragio del Titanic donandole la sua vita. Tornando indietro nel tempo, in Casa Blanca, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman sono due ex amanti che si rincontrano nella città africana durante la seconda guerra mondiale. Torna la passione fra i due ma alla fine Bogart lascia partire la donna con il marito, un film indimenticabile sulle note della canzone As Time Goes By. Debora Kerr, in Un amore splendido, interpreta un ex cantante di Night Club che si innamora del ricco scapolo Cary Grant durante un viaggio su un transatlantico. Ma un incidente che la lascia paralizzata la trattiene da recarsi a un appuntamento con lui la sera di Natale sulla terrazza dell'Empire State Building di New York. Scena che viene citata anche in Insonnia d'Amore, dove Tom Hanks e Meg Ryan si ritrovano proprio su quel grattacielo nel giorno di San Valentino e coronano lì la loro storia amorosa. Ma c'è anche l'amore felice e che redime, come quello del principe azzurro Richard Gere che salva la cenerentola Julia Roberts dalla sua vita povera e difficile in Pretty Woman. E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei? Che lei salva. Storia d'inverno si riallaccia a questa tradizione di film romantici, tragici e struggenti, a volte disperati, a volte positivi, che riaffermano la forza di un sentimento senza tempo in grado anche di fare miracoli. Si può amare qualcuno così profondamente da non farlo morire? Grazie. Grazie a tutti.